Due lavoratori impiegati in nero di cui uno per settore di reddito di cittadinanza e ancora tanta spurcizia e mancanza di igiene. È quanto emerso dal sopralluogo che è stato effettuato dai finanzieri della compagnia di Paternò che hanno ispezionato un laboratorio di un'azienda dolciaria. Hanno accertato la presenza di due soggetti intenti alla produzione di dolciumi che in seguito a specifichi accertamenti e interrogazioni delle banche dati in uso al corpo risultavano essere sprovvisti di regolare contratto di lavoro dipendente nonché dell'attestato di formazione del personale alimentarista oltre a non aver effettuato le visite mediche obbligatorie preventive. Uno dei due lavoratori in nero è risultato anche per settore di reddito di cittadinanza. Nel corso dell'attività ispettiva ancora è emersa una scarsa pulizia dei locali, la presenza di materiali e rifiuti non pertinenti all'attività svolta, nonché numerose violazioni igienico-sanitarie concernente alla pulizia del pavimento e dei macchinari da lavoro, annerimento degli intonaci, l'utilizzo di bocche di fuoco collegate a bombole dal gas, prive di cappa di aspirazione e la presenza di rifiuti e materiali pericolosi. Per tale ragione i tecnici dell'azienda sanitaria provinciale di Catania hanno riscontrato l'inadeguatezza e la nonconformità dei luoghi di lavoro, provvedendo alla sospensione totale dell'attività e l'erogazione di sanzioni amministrative. Arresto ieri mattina per il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, il personale della squadra mobile del commissariato di Priolo Gargallo, nonché collaborati dalla Guardia di Finanza di Siracusa, ha dato esecuzione ad una misura di arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa. Dalle indagini preliminari il primo cittadino si sarebbe arresto responsabile dei delitti di istigazione alla corruzione, tentata concussione, concussione, falsità materiale e ideologiche in atti pubblici. Il sindaco avrebbe agito in concorso con soggetti concorrenti, sia privati sia pubblici ufficiali, per i quali si è in procedimento di differimento in stato di libertà. Nello specifico avrebbe intimato a imprenditori locali, abusando della propria posizione di vertice dell'amministrazione comunale, l'adazione di incendi somme di denaro a società da lui indicate, al fine di favorire imprese compiacenti nell'ambito delle gare di appalto, secondo la forma del partenariato pubblico-privato, garantendo alle stesse un diritto di prelazione rispetto alle altre società concorrenti. Anologo e pressione legittime sono state poste in essere dal sindaco per agevolare l'assunzione di persone presso aziende e leader del polo industriale siracusano. Dalle intercettazioni è emerso che il primo cittadino nel corso dei colloqui con alcuni dirigenti dell'area industriale ha amminacciato l'effettuazione di penetranti controlli e verifiche nell'esercizio di competenze attribuite al comune nel settore ambientale, nonché l'irrogazione di sanzioni pecuniari alle aziende che gli stessi rappresentavano qualora non avessero secondato le sue richieste. L'attività di interferenza del sindaco è stata riscontrata anche nello stesso ambito comunale rispetto alla libertà di autodeterminazione dei funzionari dell'ente politico. In particolare il sindaco avrebbe imposto al dirigente di settore dell'accoglimento di un'istanza volta a ottenere il patrocinio di una manifestazione pubblica, nonché a un contributo economico per l'organizzazione della stessa, incidendo sulla sfera decisionale del funzionario. Analogo con tot, sarebbe stata posta in essere nei confronti di un altro dirigente comunale al fine di imporgli l'arrevoca in autotutela di un provvedimento con effetti sfavorevoli rispetto alla pratica relativa ad un lido balneare sul litorale priolese. E ancora avrebbe disposto l'annullamento di sanzioni al codice della strada elevate a privati che hanno richiesto un suo intervento, alterando il contenuto dei verbali in concorso con personale del comando della pulizia municipale. L'esecuzione della misura è avvenuta ieri mattina. In un contesto sono state svolte per acquisizioni presso l'abitazione dell'indagato e degli uffici comunali, con la collaborazione dei militari del nucleo PEF della Guardia di Finanza. Soccorsi stanotte dai vigili del fuoco due cani scivolati in un pozzo artesiano profondo 12 metri a Lampedusa. Dopo un delicato intervento durato circa sei ore, la squadra intervenuta è riuscita a recuperare sani e salvi due animali e a ridarli di nuovo nelle mani degli amorevoli padroncini. A tirare le somme dal tavolo convocato in prefettura per discutere in sicurezza sul lavoro dopo la sequela di infortuni e mancati infortuni nell'area industriale del Siracusano è la FIOM CGL insieme alla FIM CISL. Riunione sul tema della sicurezza tenuta la presenza del vice prefetto Alberto Grassia. Confronto proficolo, definiscono le organizzazioni sindacali su un tema sensibili. Oggi non è più tempo delle parole, ma occorre mettere in equilibrio un intero sistema. Al tavolo coi sindacati c'erano anche rappresentanti di Confindustria, ASPI, Spettorato del Lavoro e INAIL per cercare di costruire ognuno per le proprie competenze un percorso condiviso. Si è evidenziato come è improcrastinabile affrontare lo spinoso tema degli appalti al massimo ribasso, con la convinzione che la sicurezza sul lavoro non può essere considerato un costo dell'azienda, ma rappresenta un investimento e un valore fondamentale del fare impresa. I rappresentanti sindacali hanno ribadito la necessità di un tavolo tecnico permanente per definire regole comuni ed esigibili in materia di sicurezza e appalti. Le parti si incontreranno a breve per definire la costruzione di un protocollo condiviso proprio su appalti e sicurezza. A tre settimane dall'inizio dell'anno scolastico decine di studenti disabili delle superiori ancora non fruiscono del servizio di assistenza igienico personale. Alcuni di essi purtroppo non possono neanche andare a scuola. Tutto questo è inaccettabile. A sottolinearlo è Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana. La città metropolitana di Palermo, a cui spetta il dovere di attivare il servizio, aggiunge, non può attringerarsi dietro all'interpretazione legislativa, che di fatto negano il diritto allo studio di questi studenti. Ad attendere che la burocrazia trovi una soluzione, dice Valentina Chinnici, ci sono decine di ragazzi e altrettanti lavoratori specializzati che da anni si occupano di loro con grande professionalità. Da insegnante prima che da politico, conclude Chinnici, chiedo alla città metropolitana di rimediare con urgenza ad una questione che andava risolta già al primo giorno di scuola. È stato approvato l'avviso pubblico a Sportello per finanziare il reddito di libertà, da destinare alle donne vittime di violenza con l'obiettivo di sostenerle in un percorso di indipendenza economica ed emancipazione da contesti difficili e a volte di degrado o per intraprendere, se possibile, un'attività di impresa. La misura è stata pubblicata dal Dipartimento regionale della Famiglia delle Politiche Sociali ed è diretta ai comuni che, in sinergia con i centri antiviolenza o con le strutture d'accoglienza ad indirizzo segreto iscritte all'albo regionale, vogliono avviare un progetto personalizzato in favore delle donne vittime di abusi e maltrattamenti, anche con figli minori o disabili, per favorire l'indipendenza economica, l'autonomia abitativa, l'occupabilità o la creazione di un'attività. Tra le spese ammissibili, infatti, il canone di affitto per abitazione o attività lavorativa, l'acquisto di attrezzatura, arredi, materie prime, le spese di allaccio per l'utenza, le polizze assicurative, le licenze permesse e le autorizzazioni. Le risorse sul capitolo hanno una disponibilità maggiore di 234 mila euro. Finanziati dalla Regione Siciliana, 19 progetti di parco giochi inclusivi in altrettanti comuni dell'isola, l'assessorato regionale della famiglia, ha stanziato 715 mila euro da destinare alla creazione delle strutture ludiche destinate ai bambini e ai disabili. Concessi finanziamenti ai comuni di Via Grande, Valguarnera, Caropepe, Torretta, Roccafiorita, Racalmuto, Centuripe, Castellumberto, Ravanusa, Valverde, Agira, Pietraperzia, Castrofilippo, Castronovo, Polizzi Generosa, Alcantara, Piedimonte Etneo, Salemi, Comiso e Messina. Sono stati premati all'Orto Botanico di Palermo gli istituti superiori siciliani che hanno ottenuto i migliori risultati nell'edizione 2021-2022 del progetto di A Scuola di Open Coesione, mentre contestualmente si sono aperte le iscrizioni per il 2022-2023 che resteranno aperte fino a lunedì 24 ottobre. Il Dipartimento regionale della programmazione, in qualità di autorità di coordinamento dell'autorità di gestione del Profers Sicilia 2014-2020, è parte del progetto coordinato dal Team Nazionale di Open Coesione, assieme alle scuole partecipanti del territorio regionale, alle antenne informative Europe the Right dell'Isola e alla rete delle associazioni Amici di ASOC. Si sono distinti due team siciliani che hanno ottenuto riconoscimenti speciali per aspetti significative delle proprie ricerche di monitoraggio. Il Pink Rebail Team dell'Istituto Merendino di Capodorlando a Messina, primo classificato nella graduatoria regionale che ha ricevuto il premio speciale impegno civico, è il Team BioGeneration del Liceo Archimede di Acireale a Catania che ha ottenuto il premio speciale per l'approfondimento del contesto tematico. Team premiati anche dalla regione siciliana. Ma sentiamo il referente della strategia della comunicazione Profers Sicilia, Marco Tornambè, nonché un docente del team di Trapani, uno studente del Liceo di Acireale. La scuola di Open Cohesione è un'iniziativa nazionale di monitoraggio delle opere pubbliche, dei progetti cofinanziati dall'Unione Europea, fatte dagli studenti delle scuole superiori di tutta Italia. In Sicilia hanno partecipato in questa edizione circa 41 team, 41 scuole e oggi a Palermo premiamo 7 migliori team siciliani. L'esperienza ha portato i ragazzi intanto a fare un lavoro di gruppo, a scoprire delle competenze nascoste che sono venuti fuori proprio durante l'esperienza progettuale. L'Unione Europea che viene da noi è che si occupa di noi, sta nel territorio e fa cose per il territorio e attua quello per cui l'Unione Europea era stata originariamente pensata, un'unione tra stati non solo tanto per solo monetaria ma anche sociale e solidale, è qualcosa di più oltre una semplice unione economica o un raggruppamento di stati a livello diplomatico. I campionati mondiali di Winsurf si svolgeranno da mercoledì alla domenica in gara con 400 concorrenti provenienti da 24 nazioni nel Golfo di Mondello, Albaria e Valdesi a Palermo. Tanti gli sforzi organizzativi del club Albaria nel suo quarantesimo anno di fondazione, il locale presieduto dalla Monica con il Deus Ex Machina Vincenzo Baglione lavora da mesi per rendere tutto perfetto e accogliente. L'evento Winsurf, organizzato in sinergia con gli altri enti locali tra cui Roggero di Lauria e l'azienda italo-belga Mondello con il supporto dell'assessorato allo sport e la presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'assessorato al turismo della regione siciliana. Cinque continenti dai quali provengono i 360 atleti. suddivisi in quattro categorie con una flotta tutta al femminile. Non mancheranno le regate di specialità, i podromi, slalom, stile libero e in chiusura domenica alla lunga distanza da Mondello all'Isola delle Femmine. suddivisi in quattro categorie con una flotta tutta al femminile. Non mancheranno le regate di specialità,